Benvenuti a meteogiulianci.it. Domani giovedì 5 aprile nuvi e piogge su quasi tutta l'Italia eccetto l'estremo sud per il passaggio del nucleo freddo giunto oggi a ridosso delle Alpi. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale. Vedete le nuvole che ricoprono molte regioni dell'Italia. Che tempo allora farà domani? Bene, il bel tempo sull'estrema regione meridionale delle piogge sull'Alta Calabria, sulla Campania, sulla Lucania, piogge su tutte le regioni centrali eccetto la Toscana, piogge anche in parte sulla Sardegna, piogge su tutto il nord Italia eccetto la Liguria, l'Emilia e le Venezie. Per quanto riguarda le temperature massime queste saranno in calo sul nord Italia e sul medio Adriatico. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.